La vicinanza delle elezioni è un fattore importante per quanto riguarda le dichiarazioni sulla necessità di chiudere l'area a caldo e di ridurre l'impatto ambientale. Poi alla resa dei conti, una volta passate le elezioni, la situazione resta tale quale e quindi non se ne parla più fino alla prossima volta. È grande lo setticismo dei rappresentanti e dei sostenitori dell'associazione No Smog che stamane ha tenuto l'ennesima, così è stata definita, assemblea pubblica sull'inquinamento generato dalla ferriera di Servola. Oggetto di forti critiche è stata in primo luogo la nuova autorizzazione integrata ambientale che, è stato detto, al contrario della precedente, non fa esplicito divieto all'uso contemporaneo dei due altoforni. La nuova AIA secondo noi è eccessivamente permissiva e quindi non ci dà sufficienti garanzie per quel che riguarda la situazione ambientale che ne deriverà Nerione. Sono stati quindi analizzati i dati relativi all'andamento delle emissioni ed è stato sottolineato che con l'entrata in funzione dell'aspiratore della cocheria la quantità di polveri è diminuita, ma viceversa inesse la concentrazione di benzopirene è aumentata, così rendendole più nocive di quelle analizzate nei mesi scorsi dalla dottoressa Gatti. E ancora, è stato anche evidenziato che il controllo delle diossine con la nuova AIA è diventato semestrale. Infine, una nota molto polemica per quanto riguarda la parte altoforni e cocheria per la quale lo stesso sindaco Cosolini aveva preso poco tempo fa l'impegno a ordinarne entro giugno il blocco se non fossero stati rispettati i parametri delle emissioni. Sulla chiusura dell'area a caldo per la quale noi ci battiamo da lungo tempo abbiamo avuto delle grosse delusioni. Non più tardi di ieri c'è stato confermato nel corso di una visita che l'azienda non avrebbe almeno nessuna intenzione di fermare l'area a caldo che si limiterebbe a mettere delle toppe alle varie strutture cercando in qualche maniera di ridurre l'impatto ambientale ma di chiusura non se ne parla.